Bene, sono Stefano Zaccaria di K-Array, sono di fatto un outsider, arrivo in K-Array da pochissime settimane, mi occuperò di seguire la parte di sviluppo commerciale e progetti speciali, ho competenze in ambito marketing and sales, ma in aziende di settori diversi, per cui questa è per me la prima esperienza in ISEE, è stata motivante, vado in giro curiosando, credo di aver appreso tante nozioni che mi aiuteranno a definire con i colleghi nuove strategie, nuovi approcci commerciali, abbiamo accompagnato e descritto le novità in fiera, questo l'hanno fatto i miei colleghi perché ovviamente ancora non ho le competenze per farlo in maniera autonoma e così coraggiosa, per cui questo è quello che ho vissuto, è stata una bella esperienza, domani si concluderà, quindi ancora una giornata di lavoro.